E' iscritto a parlare in dichiarazione di voto il consigliere Diaco, prego consigliere. Grazie Presidente per la parola. Intanto c'è da specificare una cosa, questa mozione va verso una direzione forse anche sbagliata perché i dati devono essere inseriti sul sito di Ama, della municipalizzata Ama e non sul sito di Roma Capitale perciò bisogna rettificare anche questa cosa. Noi è chiaro che siamo qui a ribadire che questa amministrazione è votata per la trasparenza come ha detto in campagna elettorale e come continua a fare ogni giorno nel governo di questa città perciò non ci nascondiamo, non nascondiamo dati sensibili e oltretutto non possiamo nascondere dati che devono essere visibili ai cittadini romani che sono quelli appunto dello spazzamento, della pulizia delle strade della raccolta dei rifiuti e quant'altro. Per noi anzi è un passo in avanti quello di garantire una maggiore trasparenza all'interno di Ama cosa che negli anni passati purtroppo non è stata fatta con Parentopoli e con tutti gli altri scandali che questa povera città ha dovuto subire per le passate amministrazioni. Perciò per noi è un procedimento molto semplice quello di inserire sul sito di Ama dei dati che non sono sensibili ma sono dati che possono essere visionati ogni giorno da tutti i cittadini romani. Io con questo vorrei rafforzare l'intervento specificando che questa amministrazione non ha cambiato direttori e amministratori semplicemente per il mero gusto di fare un waltzer di poltrore ma per migliorare e per efficientare ancora di più un'azienda che è stata martoriata e massacrata negli anni dal Partito Democratico e dal centro-destra. Vedete, noi cerchiamo di mettere le competenze nelle municipalizzate, soprattutto stiamo parlando di Ama perciò abbiamo messo persone con grandi competenze e con un grande spessore dal punto di vista ambientale dal punto di vista del ciclo dei rifiuti. Perciò non mettiamo nessun servo di partiti, nessuna persona che sappia parlare chiaramente la lingua dei partiti perciò che non sia un servo del sistema partitico ma mettiamo persone che invece mettono in campo delle competenze, della conoscenza e perciò sanno di che cosa parlano sanno che quando si parla di rifiuti sanno che bisogna puntare sulla raccolta differenziata sanno che bisogna puntare su un'impiantistica sostenibile, perciò non impianti ecodistretti da costruire su territori martoriati e massacrati come Roccacincia ma bensì invece su impianti di compostaggio erobico in siti che in questa città fortunatamente non hanno vissuto la spada di Damocle come può essere quella di Malagrotta, quella del Salario come quella di Roccacincia. Noi siamo ben contenti di convocare una commissione ambiente per audire i vertici di Ama lo facciamo con grande piacere, con grande trasparenza e con grande professionalità perché noi in questo diciamo che siamo dei professionisti dal punto di vista tecnico non dal punto di vista della politica, perciò ben venga la trasparenza sul sito di Ama e ben venga l'ottimo lavoro che stanno facendo i vertici e siamo ben felici di informare i commissari e anche i cittadini dell'ottimo lavoro che in questo momento sia l'assessore Montanari che l'amministratore Bagnacani e che anche il direttore Bina stanno facendo. Grazie, per rispondere la consiglia Rabaglio. Grazie. A lei.